Ciao a tutti, oggi parleremo di una linea nuova, la linea Bel Sonno, della linea Purae, che è della nasoterapia. È composta da tre prodotti, lo spray e due sinergie, una da adulti e una per bambini, piccoli appena nati. Questa linea si compone di uno spray che contiene degli oli essenziali al suo interno che vanno ad agire sul nostro rilassamento andando a ridurre lo stress. Si può nebulizzare sul cuscino ma anche sull'ambiente proprio per facilitare il sonno, mentre le due sinergie si possono usare nella lampada ad ultrasuoni, nella lampada a vapore oppure anche nei bruciessenze, oppure anche nel pocket che è il nebulizzatore da muro, il bruciessenze da muro, sempre della linea nasoterapia. Si hanno due sinergie, una da adulti e una da bambini. Differenziano tra di loro il contenuto di oli essenziali, quelli da bambini non sono irritanti, contiene oli essenziali di lavanda, camomilla, che facilitano l'addormentamento senza essere irritanti a livello delle mucose. Dunque va benissimo metterlo anche nella cameretta.